L'idea di un sito internet comune, di un logo di un nuovo incontro a breve per ipotizzare la creazione di un sudalizio vero e proprio con tanto di programma e di atto costitutivo. Questo la Trieste che vale, il gruppo di realtà sportive storiche di Trieste ideato dal presidente della Bavisela Fabio Carini, è riunito per la prima volta proprio durante la Maratona d'Europa a maggio, si è ritrovato in occasione della via della Trieste officina Istolic, Corsa d'Auto d'Epoca in programma dal 18 al 20 ottobre, organizzato dal Club dei 20 Allora. Alla centrale idrodinamica si sono dati appuntamenti rappresentanti della società plazonate di grandi eventi, Barcolana, Bavisela, Club dei 20 Allora, Club Adriaco, Società Ginnastica Trestina e Motor Club Trieste. L'idea di far fronte comune nel dialogo con l'istituzione e nella promozione degli eventi, insieme a quella di tutto il territorio, e un'occasione di reciproca visibilità durante l'anno, in insomma, l'unione fa la forza. Intanto alle 18 si è svolta la Trieste officina Istolic, dove è entrata nel vivo con la gara in notturna e liberazione diretta in Portovecchio.